ciao e benvenuti in questo nuovo video nel video di oggi faremo l'unboxing di alcuni prodotti createx intro non mi perdo tanto in chiacchiere e vado direttamente a far l'unboxing abbiamo anche camera qua sopra come sempre e andiamo a vedere che cosa c'è qui dentro io in realtà lo so cosa c'è però un kit da 12 colori createx wicked opachi quindi la linea nuova e questi colori qui sono nelle boccettine da due once quindi da 60 ml circa ve li faccio vedere anche in camera di qua e li andiamo subito ad aprire poi non è finito che c'è altra roba da farvi vedere e andiamo a vedere un attimino questa qui è la gamma completa di questi nuovi colori di questa nuova linea opaca andiamo a vedere che colori abbiamo il classico bianco sposto questi che se no faccio casino bianco e nero un viola questo è un bianco sporco non saprei come definirlo color crema l'arancione il rosso che ora vi spiego anche perché li sto separando classico giallo un celestino cioè un blu celestino verde un'altra tonalità di giallo molto particolare vedremo come impiegarla il blu e il verde lime se non erro si verde lime perché li ho separati perché questi che io qua sono l'equivalente poi vi farò una comparativa dei wicked trasparenti di cui io vi ho parlato in un altro video ve lo lascio qui sopra tra le schede perché li ho separati perché con i cretex no con i cretex con i colori primari di base possiamo andare a realizzare qualunque tinta noi vogliamo qualunque tinta noi abbiamo bisogno quindi eventualmente se qualcuno è interessato all'acquisto e non vuole prendere tutto il kit può benissimo prendere magari colori il kit primario e vedere di svilupparci le tinte di usarlo in quella maniera mentre se volete avere tutta la gamma potete benissimo trovare il kit o prenderli anche singolarmente man mano dove trovate tutti e 12 i colori perché sono 12 colori in tutto sposto questi e andiamo a prendere le altre cose poi è finito allora questo lo leviamo finito ah qua abbiamo il reducer 4011 io generalmente che ho utilizzato finora ho sempre utilizzato il 4012 cosa cambia fra i due? ho una mezza idea però io devo essere sincero il 4011 non l'ho mai utilizzato datemi modo di metterlo in funzione tirare un attimino le somme e poi vi farò una sorta di comparativa fra questo e il 4011 e il 4012 e vi darò tutte le informazioni che riesco a darvi sia sull'uso pratico sia su basandomi su quello che mi indica la scheda tecnica questa invece è una finitura monocomponente che io intendo utilizzare se non erro si può utilizzare anche per le illustrazioni qualcuno la usa a fine illustrazione però io intendo utilizzarla per i gadget e per altre tipologie di lavoretti che vedrete qui sul canale che farò appunto con questi colori qua della createx non l'ho mai utilizzata anche questa come finitura quindi vedremo un attimino che sorprese ci dà come si comporta vorrei provare a utilizzarla anche con le esche molti di voi mi hanno detto ma io non posso utilizzare la bicomponente 2k a solvente ho problemi a spruzzarla con l'aerografo lavoro in casa e così via per cui questa potrebbe essere una valida alternativa quindi farò una prova la proverò su alcune esche le metterò in utilizzo e vedremo un attimino come si comporta e anche lì fra un tot di tempo vi darò tirando le somme le mie impressioni su questa finitura nei vari ambiti su cui possiamo applicarla io vi risistemo qui tutta la robina a modino e che altro dire questo è un breve unboxing che è durato tra virgolette poco vi potrei dare le prime impressioni ma non ve le posso ancora dare perché questa linea non l'ho ancora provata è inutile che io mi metto con l'aerografo a dare delle spruzzate a fare delle linee e roba varia anche perché secondo me per tirare le somme su una vernice va utilizzata va visto come come rende a lungo termine magari fra un 15-20 giorni di utilizzo intenso vi inizio a dare qualche comparativa faccio un video con i createx trasparenti anche perché conto cioè utilizzare questo non mi esclude l'utilizzare quello ma conto di utilizzarli fra virgolette insieme anche perché come ho fatto con altri brand non mi garba utilizzare solo gli opachi non mi garba utilizzare solo i trasparenti ma in base a cosa devo fare li utilizzo entrambe dopodiché passerò a prendere anche qualcosina dei detail che è un'altra serie sempre della serie wicked per farvi una comparativa fra i tre quindi per farvi vedere come lavorano gli opachi i trasparenti e i detail idem per questi altri due prodotti una volta utilizzati con un utilizzo intenso vi tirerò le somme fra il 4011 e il 4012 e vi darò delle indicazioni su questa finitura qua per il momento direi che è tutto se il video vi è garbato lasciate un like se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video ciao ciao